Buonasera dal Festival Internazionale dei Castelli Romani. Ci troviamo prima da Riccia, al CrossFit, saluto una redazione di Italia News, la nostra inviata Sabienza Magella, un saluto particolare a Mazzigliano Ferrara, il nostro direttore. E stasera abbiamo Renanzi, Aida Jespiga, Mauro Zama, Giseli, tanti altri personaggi, per cui è stata premiata anche con il viola sfice non protagonista, Demetra Heston. E quindi a presto con i nostri film, un'ambaccia punta alla reazione di Italia News, Maria Sabienza. Buonasera dal Festival Internazionale dei Castelli Romani. Però non avevo mai capito perché, proprio stasera, perché poi la ricerca continua, scoperto che Ottavio in realtà era il nonno. Quindi lui, il mio nonno, ha chiamato Ugo Ottavio, però si piaceva chiamare Ugo, come uno dei presenti del nonno. Mentre invece, in pratica, battezzavano, hanno fatto un ciclo, un ciclo battezzò i tisti con i nomi dei genitori, ma richiamava con i nomi dei fratelli, che non so, ma è una trezza. Comunque, è incredibile quanto tuo padre sia ancora tanto amato. Sì, no, è molto bella. Diciamo che questo documentario l'ho fatto, in virtù del fatto che sentivo bisogno di rinnovare il suo ricordo. Gli artisti non muoiono mai, è vero. Però è vero anche che il cinema, il film si deteriorano, scompare fisicamente, proprio. E poi, insomma, oggi siamo in una città delle immagini, siamo comportati di film, di network, di piattaforme, insomma. C'è tanto affetto ai primi, i film, i film che hanno reso grande, enorme, in italiano, tendono ad essere identificati pian piano piano. Allora, la città di Carlini è il terzo boccato nel mondo che conosce l'italità. Pizza, Ferrari, Papacazzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per questo abbiamo deciso di consegnarti un prete alla cadiera. La nostra letta Francesca. Esatto. Confine. Non messo. Ah, anche non messo. Confine. Ecco, adesso sei fotografato di come sei passato dall'altra parte. Allora, tu rimani qui con noi adesso per consegnare tutti gli premi e questo lo ringrazio a poco. La mia letta, noi stiamo tutti insieme. Questo lo consigliamo. Vado io, eh? Vado io, eh? Vado tu. Allora, è secondo il momento del premio come miglioratore. Prego il premio come miglioratore per la sesta edizione del Castelli Romani di Fese Internazionale per il film Troppa Famiglia. Il premio come miglioratore per la sesta edizione del Castelli Romani di Fese Internazionale per la sesta edizione del Castelli Romani di Fese Internazionale per la sesta. No, no, no. Insieme insieme? Fanno una cosa insieme? E' insieme. Allora, qualcosa devi fare? E' che cosa? L'è? Antonello? No, grazie a te, mi fa molto piacere perchè stato a una lavorazione un po' complicata, che ho fatto durante la pandemia, sono stato falso positivo due volte, scuso questo valore, che è scusa con me, ma a parte questo tutti abbiamo sofferto durante la pandemia, sono state le relazioni piuttosto difficili. Ringrazio voi, ringrazio Rabino, che è un colombaisino dell'Abruzzo che ci ha ospitato, e siamo stati lì praticamente più di un mese e mezzo. Il regista per Luigi Di Rallo è lo stesso del film di tipo Vaganato, quindi vedo che sta andando avanti, perché amici di noi, grazie ancora a tutti, sono tanti amici, vi saluto tutti e mi piace salutare Dai Metram, con la quale abbiamo fatto valentia, a me tanti anni fa. Adesso è giunto il momento di... Posso? Come no? Migliore attrice a linea vitale, per la... Migliore vitale, premio per il proprimento, bellissimo colore, bellissima. Mi consegna a prego il nostro Presidente di Giulia, a cui Francesca consegna il prego, eccolo qua. Grazie, grazie davvero, questo è un film indipendente, e dico sempre, a me e Giorgio Rosaggio ci tendiamo a dare il prego, Sostiene i giovani, e anche in pratica Pieri Fabro e la sua paraclina, veramente giovanissima, ha 26 anni, insieme a me ha lavorato una giovanissima, ha il suo debutto cinematografico, e abbiamo girato questo film durante la pandemia chiusa del Trimogero, una chiesa. la settimana non è sempre, non ci sta, non ci sta, tutti quanti, riservate e femmini, abbiamo fatto un videopetraggio per Mettro di Cuore, e sono debita insieme alle donne, e sono molto contenta di viacere in questa film, quanto riguarda tutti. Grazie a te, grazie a te, ho sentito tutto. Questo non è il discorso, Dario. Scusa, grazie. Buon pomeriggio a te. Io voglio ringraziare tutta l'organizzazione per prendere i profi, è veramente un piacere, poi questo è il secondo premio che vinco nel largo di poche settimane, quindi per me è veramente immenso questa cosa, però è un po' di più. Buon pomeriggio a questo impatto, e poi chiedo a Rosario di invitare se fate anche tutti gli altri premiati, perché abbiamo deciso di fare il primo premio. Grazie, grazie. Grazie, grazie a te, grazie a te. Grazie a te, abbiamo cercato a prendere la pensione, a Santa Cammellano Cusaca, e adesso è vinto il nostro unico, il nostro obiettivo e il nostro ministro che è Teresa beim Chassere, il ousello niente, com'è il nome, com'è la signora. Ci teneva tantissimo, lo portò i suoi saluti. Del Cassa fa parte anche il piede a Giorgozzando e Manetta Sabenza che sta qui. Grazie a tutti. Grazie a tutti.